buongiorno dal raduno del fiat coupé bellissima venti valvole spettacolo la più bella ciao alessandro ciao 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 on Olbo 16 con tettuccio spettacolo e anche lavafari. L'altro tubo rossa meravigliosa. Anche sinceramente mi sono rotta la scatola. E' una benzina con questa gara. Un altro coupé in arrivo. Tendite il rombo. Vediamo la meccanica. Troviamo ad Aquino, provincia di Frosinone. Raduno del coupé ad Aquinum, città storica. Vediamo. 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 Anche la mia deltina. E' il mancabile Renault 5 di Cosimino. Vediamo. Non, perché se fosse guardare la scatola. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti